E rieccoci tornati in diretta, 0 a 0 parla al centro, seconda parte della nostra trasmissione, andiamo a Palazzo San Giacomo, ma prima, prima, salutiamo Roberto Conte. Buonasera Roberto. Caro Michele, buonasera a te e ai tuoi radioascoltatori. Allora, come dire, qualche piccola buona notizia c'è, nel senso che lo stiamo dicendo da giorni, oggi sono state molto forti le parole di Domenico Arcuri, quei 17 mila, io arrotondo purtroppo, era stamattina 16 mila e qualcosa, temo che poi il bilancio si aggravi continuamente, perché comunque parliamo di una media di 500-600 morti giornalieri, però continuiamo a dirci che le cose vanno un po' meglio. In realtà, se la si guarda a lungo termine è in effetti così, il bollettino stamane dello stesso comune di Napoli, che attualmente tutte le mattine a mezzogiorno sulla pagina Facebook dà un primo aggiornamento, parlava soltanto, se possiamo dirlo così, di circa 700 positivi nel comune di Napoli, ma soprattutto di questi 700, soltanto 13 in terapia intensiva. E questo forse è il dato che è steso anche ad altri comuni, dimostra che le cose vanno meglio. Tu parlavi di un collegamento con Palazzo San Giacomo, che in realtà ormai è dovunque, nel senso che anche gli assessori, gli amministrativi del comune sono smart in questi momenti di lavoro emergenziale. Lei in particolare, che è giovane, che l'assessore è giovane, tra le tante cose, è smart di per sé. Benvenuto a Radio Punto Zero ad Alessandra Clemente. Buonasera, assessore. Grazie, grazie mille a voi. Alessandra, allora, tra le due deleghe c'è quella del patrimonio, oltre ai lavori pubblici e ai giovani. Il patrimonio personale di tanti napoletani, ma di tanti italiani, in questo momento è la grave conseguenza della crisi sanitaria, che ha portato ad una forte crisi economica. Il comune di Napoli, da questo punto di vista, sta facendo molte cose per cercare di dare una mano ai cittadini, non solo a livello sanitario. Grazie. Ricordandoci sempre che il più grande patrimonio comune in questo momento è la salute e la straordinaria lotta che ognuno di noi, mettendo in stand by i nostri diritti fondamentali, stiamo facendo attraverso questo meraviglioso impegno di maturità della città di Napoli. Perché quel resto a casa, dalle napoletane e le napoletane, viene rispettato con forza, al di là dei luoghi comuni e dei pregiudizi. Io lo posso dire da un osservatorio privilegiato e autorevole, che sono appunto i controlli in strada. Sicuramente questa enorme pandemia mondiale porta nelle piccole o nelle grandi comunità un vero e proprio terremoto economico, che al pari della salute la dignità delle persone legate al reddito, legata all'acqua, luce, gas e alla casa, un luogo dove essere con i propri familiari e con i propri affetti, è sicuramente un qualcosa degno della stessa tutela e della stessa attenzione. Ed è per questo che già due settimane fa, come Giunta, ci siamo riuniti in cabina di regia col sindaco, a Legge dei Magistris, per dare da subito dei segnali chiari in primo luogo alla cittadinanza di questa consapevolezza. Ovvero che a doppio filo con la vita delle napoletane e dei napoletani da proteggere, c'era anche la vita economica delle famiglie della città di Napoli e delle sue imprese e delle sue attività economiche. Ed è per questo che in tanti settori abbiamo messo in campo, in queste settimane, tanti interventi. Ne voglio citare uno per iniziare. Il Comune di Napoli ha deciso, essendo proprietario di molti immobili, di sospendere il pagamento dei citti. All'insegna di un qualcosa di semplice, se lo Stato mi chiude, pensiamo al ristorante o al bar, il Comune di Napoli non può chiedere il tigione. Sicuramente l'abbiamo fatto in quanto proprietario e l'abbiamo fatto in quanto pubblica amministrazione. L'ho fatto come assessore al patrimonio perché è doveroso. E allo stesso tempo è sicuramente doloroso, però, registrare che tanti altri hanno a fine mese da pagare fitti non al Comune di Napoli, ma a tanti proprietari. E in queste ore è proprio questo il giudice d'allarme. Di persone che stanno decidendo di pagare le bollette perché non possono rimanere a casa con i bimbi piccoli senza acqua, luce e gas e di non pagare il proprietario di casa. E io personalmente, insieme a tutta la Giunta, al mio Sindaco, al nostro Sindaco, stiamo infatti portando questo tema in modo importante, insieme agli altri temi. Il Comune di Napoli poi ha voluto, per quanto riguarda invece gli alloggi di studenti pubblici, spostare di tre mesi il pagamento dell'affitto di casa. E al contempo, chi vuole aderire a questa iniziativa però, perché sapete che a noi, a me soprattutto, i furbetti non piacciono. E lo Stato deve dare tutela, ma soprattutto le deve dare a chi rispetta le regole. E anche a chi è una brava cittadina e un bravo cittadino, è fondamentale essere regola con i pagamenti. Ed è possibile nei prossimi 30 giorni, per avere la possibilità di avere questo sostegno da parte del Comune di Napoli, anche stipolare un non piano di rientro. E quindi, se nel passato non si è fatto bene, ad oggi a noi interessa sicuramente giudicare il passato e non trattarti in modo uguale rispetto a chi invece ha rispettato le regole. Però a me interessa subito crearti una strada per metterti in regola. E quindi queste sono due misure di sostenzione del fitto e di differimento del pagamento del fitto di casa. La sospensione del fitto invece per le attività commerciali, ovviamente per chi regola o per chi dimostra di firmare un contratto con l'amministrazione per superare il pregresso. Altre iniziative in questo senso sono state la sospensione della COSAP, che è una tassa che le attività commerciali pagano quando missono i tavolini sul suolo pubblico. Una pizzeria che in questi giorni è chiusa, un bar, una trattoria che in questi giorni è chiusa sicuramente sarebbe stato lontano da ciò che sta vivendo la città, se il comune di Napoli chiede il pagamento di quella tassa, per esempio. E così abbiamo fatto per i rifiuti del mondo economico e commerciale che è stato messo il lockdown dai provvedimenti del governo per la nostra salute. Assolutamente, iniziative assolutamente condivisibili. A zero a zero palla al centro, c'è l'assessore alle politiche Giulia Vanilli, ma anche al patrimonio e ai lavori pubblici del comune di Napoli, Alessandra Clemente, c'è anche Roberto Conte. Roberto? Intanto oggi alle 18 per la prima volta sono riuscito a seguire questa bella iniziativa Facebook del comune di Napoli sulla salute in casa, e cioè una sorta di consulenza psicologica e psichiatrica che in questo momento è fondamentale per tutti noi. Noi domani compiamo un mese preciso di quarantena, per cui non è semplice quello che sta avvenendo nelle case, con i bambini, nei rapporti anche interrelazionali tra marito e moglie, ci sono situazioni difficili dappertutto. E questo sostegno al disagio psichico durante la pandemia da Covid-19 che si trova sulla pagina Facebook del comune con psicologi, psicoterapeuti, anche esperti di alimentazione, pediatri, medici sportivi, mi sembra un'altra grande iniziativa. Una bellissima iniziativa invece, a cui mi fa pensare Alessandra Clemente, che noi abbiamo messo sulla pagina Facebook assieme ad Anna Capasso, abbracciate a Paola Scerto, proprio a Palazzo San Giacomo, quando si lanciava la bella iniziativa dell'arcobalero napoletano, e questa campagna di sostegno di GoFoundMe a favore della ricerca di Paola Scerto, perché con buona pace di alcuni giornalisti, oggi anche mista Merlino, con l'ennesima gaff sulle eccellenze napoletane che sembrava un'eccezione, e che invece in realtà per chi conosce il mondo della scienza e della medicina, penso al CNR, al CENG, a tante belle realtà universitarie, accademiche e scientifici, sono una realtà di questa città, è una città che sta dimostrando con i suoi ospedali, con i suoi medici, con i suoi scienziati, di essere ad alti livelli, a livello non direi nazionale, ma internazionale, Alessandra. Grazie per questa panoramica e per queste domande, perché mi danno l'opportunità, sicuramente noi siamo in prima linea per l'optale, anche contro un altro virus, che è quello dei pregiudizi dei luoghi comuni nei confronti del Sud, e io sono certa che questo grande spirito di solidarietà e di unione, che percepisco palpabile, stando in strada, al fianco di chi sta operando in emergenza, viene testimoniato da infinite azioni, ci aiuterà a sconfiggere questo virus, ma io soprattutto confido e spero che sopravviva a questo virus, perché noi abbiamo 150 anni di storia di disuguaglianze economiche e di iniquità economiche da curare e da recuperare. In questo senso è veramente forte e bella la pagina di eccellenza del nostro ospedale Cotugno, è sicuramente importante che ad oggi gli idoli della città di Napoli sono i nostri medici, capitanati dalla competenza, dalla semplicità e dall'umiltà del professore Ascerto, ma anche di tanti altri anonimi che oggi non vedono il suo nome riportato dalle cronache, ma che sono quella testimonianza dell'etica o del lavoro, cioè di professionisti che si sono formati e che in un sistema pubblico forte sono lì per scrivere pagine importanti per la città e per il paese. Napoli è sempre stata una grande città e una capitale in grado di produrre professionalità e competenze ed eccellenze che dal mondo della ricerca al mondo dello spettacolo e della cultura hanno sempre saputo fare la differenza. Io ho un piccolo motto che mi accompagna da napoletana, nessuno nasce in vano sotto un vulcano, siamo una identità popolare e una identità culturale quella napoletana sempre in grado di fare grandi cose e di rispondere a grandi sfide in alcuni tratti dedicati al male, in altri tratti dedicati al bene. A noi infatti mi conoscete, sapete, il mio grande impegno con i ragazzi che sbagliano di questa città, ragazzi talentuosi, pieni di energia, pieni di creatività che dobbiamo riconvertire dal male e dagli esempi negativi che hanno avuto nella propria vita al bene e alle opportunità e ai diritti che sono mancati e che dobbiamo costruire. E legata a questa dimensione c'è la dimensione di un'umanità molto forte che ci deve guidare in questo momento storico. Quotidianamente chi sta prendendo decisioni nelle parti degli ospedali, in strada, tra le forze dell'ordine, nei palazzi anche della democrazia, della città come il comune o del paese, come il governo, io sento, almeno parlo per me stessa, che c'è un'unica stella polare che è quella dell'umanità da seguire e c'è bisogno di prendersi cura delle persone ed è per questo che è nata anche un'iniziativa semplice ma di un successo incredibile come la salute è in casa, non soltanto un richiamo ovviamente a quel messaggio di stare in casa, che è un atto d'amore per prenderci cura di noi stessi e di tutti gli altri, ma perché siamo consapevoli che stare a casa può essere fonte di problemi, si può mangiare troppo, si convive in spazi stretti, si cambiano le abitudini, io non so voi ma anche nel mio stesso appartamento la sera mi giunge qualche urla di troppo di una coppia che litiga, di un padre e figlio che litigano, in effetti è così, magari vivo dei momenti di tensione con gli infimi stando tra le mura domestiche, alle prese con lo stress della situazione, soprattutto alle prese con una bambina, con un bambino, con l'adolescenza di questa città, con l'infanzia di questa città, loro non ce lo dicono ma stanno soffrendo tantissimo, perché è proprio sosteso il loro diritto agli adolescenti che è quello di vivere una realtà di prima autonomia rispetto ai genitori, e invece le bambine e i bambini lo spazio aperto, il gioco, la corsa, la ludica che è fondamentale per le bambine e per i bambini. E allora per questo abbiamo voluto la salute in casa, un esercito di professionisti che a titolo volontario è gratuito, ci tengo a dirlo, realizzano un servizio anche questo gratuito per il Comune di Napoli, perché noi ci autoinventiamo con grande creatività queste iniziative, il cuore è l'assessorato alla salute, che è guidato da una mia bravissima collega, l'assessore Francesca Menna, e insieme ci siamo io come assessore giovani per arrivare a quanti più ragazzi e ragazzi possibile, e l'assessorato anche all'istruzione con Anna Maria Panieri, per raccontare anche il mondo della scuola, e c'è anche una bellissima partecipazione, grazie all'assessorato allo sport, degli sportivi della città di Napoli, che sono delle pillole, ecco stare a casa ci può far diventare un po' indolenti, un po' pigri, ci può far mangiare in modo un po' più confusionario, meno pulito, sicuramente meno movimento, c'è anche una battuta che gira sui social, che insieme ad andrà tutto bene, andrà anche tutto stretto, perché forse stiamo mangiando tutti quanti un po' troppo, e allora anche gli esperti dell'alimentazione ci aiutano a seguire delle buone pratiche, e soprattutto ci rispondono, perché la forma di questo canale, la salute in casa e la possibilità di poter interagire. Raccolgo questa tua chiosa finale sui giovani e sul futuro, perché il tempo radiofonico è stretto, il tuo eloquio che è perfetto per fare il sindaco nel futuro, salutiamoci anche con questa battuta, mi ha dato un grande assist calcistico, tu hai detto come tanti, hai ricordato questo adagio dell'andrà tutto bene, ma quello che tu hai detto sui giovani, e quello che stanno dicendo molti docenti, del fatto dei giovani anche più attenti con queste lezioni online, con il loro tempo capace di gestirlo, ma anche di migliorarsi, molti docenti li hanno trovati migliorati, io chiudo pensando a dire che forse andrà tutto meglio, perché questo è quello che ci dobbiamo ospicare, è questo grande schiaffo che ci ha dato questo virus, ci abbia dato il tempo per riflettere, e per avere voglia di far sì che una volta usciti da questa emergenza, si possa essere anche migliori, ripartendo proprio magari da questa grande eccellenza che è questa città. Intanto grazie per essere stata con noi, ad Alessandra Clemente. Grazie Assessore, buona serata. Grazie a voi. Grazie, grazie ad Alessandra Clemente, grazie a Roberto Conte. Roberto, noi ci risentiamo venerdì. Ci risentiamo venerdì, con un altro spazio dedicato all'eccellenza della ricerca napoletana, penso al CNR, c'è un gruppo LBB guidato da Rita Berisio, che sta lavorando a studi farmacologici e vaccinali sul coronavirus, insomma, molte delle speranze arrivano da questa città, con buona pace di qualcuno che si trova in zone padane, ci sono dei primati della scienza, non pochi che abbiamo proprio a Napoli, e in questo momento in realtà, come ha detto proprio il professor Ascierto, non è neanche tanto il momento di sottolineargli, ma è il momento di sperare che chiunque so sia, pensa all'Australia, dove venivano alcune buone notizie il giorno scorso, alla Cina o chiunque sia, trovi quanto prima una via d'uscita farmacologica, di quella vaccinata un po' più lontana, a questa grave emergenza. Buona serata Roberto, grazie a venerdì. A voi, a venerdì.